Gestione dei rifiuti e istruzioni per l'uso. Sono stati sottoscritti questa mattina la Convenzione e il disciplinare degli obblighi al carico del Comune di Praia Mare per la realizzazione di un centro di selezione a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti. Dopo l'assegnazione del finanziamento di 100.000 euro da parte della Regione Calabria e il Dipartimento delle Politiche per l'Ambiente, questa mattina la firma Catanzaro del documento da parte del Vice Sindaco di Praia Mare, Antonio Giannotti. Il Vice a Catanzaro è stato propedeutico alla preparazione di un bando per la gara d'appalto che porterà alla giudicazione dei lavori, i quali non dovranno durare più di un anno, fa sapere Giannotti. Insieme ai rappresentanti degli altri comuni beneficiari del finanziamento è stato sottoscritto l'impegno a garantire un investimento produttivo destinato alla gestione dei rifiuti, puntando su un efficiente sistema che guardi anche a una formazione adeguata del nostro personale. In questo modo la Regione Calabria procederà con il versamento della prima tranche del finanziamento, che corrisponde al 30% del versamento. La raccolta dei rifiuti in ogni caso continuerà a essere gestita dal Comune di Praia. Il sistema prevede la creazione di una piattaforma ecologica con l'installazione di nuovi container chiusi ermeticamente, nei quali i rifiuti verranno differenziati e poi inviati a riciclo. Dubbi ancora sul sito dove sorgerà il nuovo centro di raccolta. È un progetto che mira il miglior utilizzo possibile della raccolta differenziata, continua il Vice Sindaco. Trasformare il rifiuto in risorsa, anche economica, è un'idea che vogliamo mettere in pratica. È possibile che ai cittadini venga richiesta più attenzione nella differenziazione della spazzatura, ma è un metodo che può garantire anche il passaggio da tariffa a premio. Ci impegneremo inoltre ad ampliare la raccolta differenziata offrendo la copertura a tutto il territorio comunale, trasformando quello che può essere visto come un sacrificio iniziale, quale può essere quello di differenziare i rifiuti, in uno stile di vita.